eccoci benvenuti voi che state arrivando quelli che arriveranno fra poco benvenuti tutti mercoledì del priore ne abbiamo saltato uno come dicevo nell'anteprima perché mi sono preso tre giorni di vacanza al mare ragazzi esperienza che non facevo da tanti anni e oggi siamo ritornati siamo ritornati malgrado il caldo siamo ritornati in buone condizioni a parlare del nostro argomento preferito gli impasti oggi parleremo e affronteremo un argomento interessantissimo che è quello delle farine forse più ricco di tutti gli argomenti possibili all'interno di questo mondo variegato degli impasti e dei lievitati qual è la cosa che ci interessa preliminamente prima di ogni cosa ci interessa soprattutto spiegare e ricordare a tutti che alla fine il gioco che noi facciamo è uno solo quindi sia che noi siamo pizzaioli panettieri panettonisti qualunque gioco noi facciamo l'unica l'unico meccanismo che noi seguiamo è sempre lo stesso è quello di inserire aria nell'impasto per rendere il nostro impasto soffice ben lievitato alzato carico di gas morbido piacevole al morso che trasmetta profumi e odori bla bla quindi quello che hanno interessa è esattamente questo genere di operazioni tecnicamente siamo a posto bene ci stiamo tranquillo perfetto quindi all'interno di questo nostro gioco la cosa carina è che si sono venuti allineare veramente i pianeti e all'interno della nostra farina abbiamo trovato tutto quello che ci serve per realizzare al meglio questa nostra aspirazione cioè questo nostro desiderio di creare impasti arieggiati gonfi e molto piacevoli e soffici al morso prima di tutto facciamo una breve digressione su da dove viene la farina allora 3000 anni prima di cristo nella mezzaluna fertile nacquero le prime i primi esempi i primi ritrovamenti risalenti a quel periodo di noodle quelle che i cinesi chiamano noodle cioè erano piccoli nodini di impasto fatti normalmente a mano e ricavati da farina di grano tenero che per la prima volta è stata coltivata in quella zona e ragazzi miei è stata una di quelle esperienze che ha cambiato tutta la storia dell'umanità perché il grano tenero ha fatto nell'occidente quello che nell'oriente ha fatto il riso quello che nelle americhe ha fatto il mais cioè ha creato un sacchetto il chicco di grano è un sacchettino carico di energia energia di pronto utilizzo per i nostri in ai nostri antenati pure per noi obiettivamente è il carico di amido quindi la farina alla fine è un enorme riserva di energia presa dal sole ricavata dal sole dalle nostre piante e poi trasmessa a noi attraverso appunto la farina quindi il chicco di grano formidabile strumento come è fatto il chicco di grano il chicco di grano ha questa forma un po appuntita d'uovo ovo idale alla parte più appuntita c'è il germe di grano che è l'unica zona che contiene i grassi nella parte più esterna stanno le crusche sette veli come quelle mitologiche di alcune eh alcune madonnine per esempio quella di foggia la madonna dei sette veli sette veli anche intorno al chicco di grano eh crusca cruschello tritello farinaccio stanno tutti vari livelli di di crusca da quelle esterne più coriace meno cariche di acqua più dure e fastidiose da masticare a quelle via via più interne e quindi più cariche di acqua più soffici più piacevoli tanto che noi nella farina che abbiamo voluto mettere a punto per diciamo riassumere tutte le cose positive che avevamo imparato sulla farina avevamo deciso di inserire nella nostra farina nella farina di due priori che è una tipo uno una grande quantità che succede una grande quantità di crusche per questo è una tipo uno però abbiamo scelto le crusche più interne ossia quelle più cariche di umidità di acqua e quelle più piacevoli al morso tant'è che la farina pur essendo una tipo uno non è scura come la farina di lariano per esempio ma è abbastanza chiara piacevole da vedersi bevo a parte la forma a parte quindi la parte esterna in cui si concentrano i sali minerali si concentra la parte più cruscosa del chicco la parte interna che si chiama endosperma è praticamente composta quasi esclusivamente all'ottanta per cento 90 per cento di amido che è un famoso zucchero il famoso zucchero di cui abbiamo sempre parlato che una volta degradato grazie alla milasi che è un enzima l'enzima tagliuzza l'amido che è una catena molto lunga molto complessa molto grossa e non riuscirebbe a entrare all'interno del meccanismo dei nostri lieviti e grazie alla milasi viene spezzettato degradato in zuccheri semplici e quindi diventa ottimo cibo per i nostri lieviti quindi da una parte abbiamo l'amido che funziona come cibo per i lieviti che lo metabolizzano e producono i gas oltre a una serie di sottoprodotti quali l'acidità i sapori profumi va bene ma quello che ci interessa è che metabolizza e produce i gas allora i gas sono per noi quello che gonfiano il nostro amico pane o pizza e quindi il risultato è che se noi abbiamo abbastanza gas la nostra pizza esce una bella pizza poi soprattutto quelli che amano la pizza contemporanea hanno un gran bisogno di questi gas quindi da una parte abbiamo produzione di gas affidata grazie al nostro amido affidata ai lieviti dall'altra però abbiamo una quantità di un prodotto che serve che ha lo scopo di trattenere i gas prodotti all'interno dell'impasto perché qual è il problema che l'impasto abbiamo detto altre volte è un fluido ossia si compa molto denso è più denso dell'aria dell'acqua ma è comunque un fluido risponde alle regole dei fluidi e quindi un gas all'interno del fluido lentamente tende a risalire e galleggiare andare verso l'alto raggiungere la superficie formando una bolla che esplode e si dissolve il nostro gas nell'aria senza nulla che trattenesse il gas all'interno dell'impasto noi ci ritroveremmo qualcosa che malgrado la enorme quantità di produzione non otterrebbe nessun risultato perché i gas andrebbero a svanire rapidamente e allora cosa interviene la proteina il glutine vi ricordate abbiamo parlato molto l'altra volta i ponti di solfuro i gancetti chiamati ma in realtà ponti di solfuro che creavano queste catene lunghe che si intersecavano con altre catene che si intersecavano con altre maglie e alla fine formavano una struttura tridimensionale che catturava fisicamente proprio dovete immaginare tratteneva come una rete trattene le piccole bolle di gas anche le grandi bolle di gas presenti all'interno del nostro impasto ed ecco che abbiamo quindi tutto quello che ci può servire all'interno della nostra farina c'è tutto il mondo che a noi serve quindi abbiamo chi produce i gas chi li trattiene all'interno dell'impasto i lieviti che fanno il loro lavoro gli enzimi che tagliuzzano e riducono le molecole complesse e molecole semplici questo vale sia per il l'amido quindi l'amilasi come enzima e sia per il glutine la proteasi il glutine una proteina e l'enzima corrispondente si chiama proteasi quindi abbiamo veramente un insieme di cose che sono bellissime da poter vedere ricordate che questa stessa situazione non si ripresenta in tutti i cereali per esempio abbiamo il riso che è il grande cereale dell'oriente che però sostanzialmente privo di glutine quindi loro non sviluppano il pane ma sviluppano un tipo di cucina che ha una funzione diversa proprio perché il grano è molto molto ridotto come diffusione rispetto al riso quindi vedete che non hanno tutti la fortuna che abbiamo noi occidentali di avere questa forma di questo tipo questa tipologia di cereale ora la cosa positiva in tutto questo è cercare di capire queste farine come si differenziano e come possono essere sfruttate al meglio all'interno dei nostri impasti e questa ragazzi è una cosa veramente forse la più impossibile da sviscerare completamente perché innanzitutto perché esistono migliaia di tipi di farine non pensate solo al grano tenero noi ci limiteremo al grano tenero ovviamente perché è quello che ci serve fondamentalmente come base per la pizza sia la napoletana che la pizza in teglia vanno con il grano tenero ma anche perché poi esistono altri tipi di C'è una domanda di Giuseppe Scusa Ettore ma la parte cruscale soprattutto nelle lunghe maturazioni non rischia di far correre l'impasto e sviluppare un'acidità di tipo acetico specie con lievito madre? Mamma mia, allora il lievito madre sviluppa un'acidità di tipo perlomeno più lattico che acetico quindi l'acetico lo sviluppa soprattutto quando non è bene equilibrato quando ha diciamo superato le condizioni ottimali di salute quindi l'acetico no. Le crusche possono sviluppare questo ma francamente se sono in buon equilibrio no, non creano questo genere di problemi. Le crusche se il problema creano la pesantezza fisica ovvero le crusche hanno due effetti da una parte assorbono più acqua come spugne quindi non c'è un aspetto chimico ma fisico proprio assorbono acqua in maniera diciamo come una spugna lo fa all'interno per l'alveolatura e quindi per assorbimento. Questa è la parte che riguarda l'acqua la parte che riguarda invece la pesantezza dell'impasto è altrettanto importante. Se voi vedete un impasto ricco di fibre quindi tipo 1,2 o addirittura integrale la forma degli alveoli è sempre più ridotta di quello molto raffinato della doppio zero perché le crusche pesano, pesano fisicamente quindi appesantiscono tutto l'impasto lo rendono più basso. L'estrema dimostrazione di questo concetto è un pane molto particolare per fortuna, scusate la piccola cattiveria, per fortuna non è italiano, è il folkenbrot che è un pane tedesco mi scuso con gli amici tedeschi comunque che apprezzano quel tipo di pane perché io non lo sopporto molto ma in realtà voi vedete che ha sia la forma sia la densità di un piccolo pianeta o di un mattone quello che i dotti intellettuali di Roma chiamano un sercio, una pietra dura e pesante e il folkenbrot che ha appunto questa struttura carica di crusche principalmente ma poi anche di semi e altri prodotti è chiaro che tende ad essere pesantissimo, quindi un alveolatura quasi inesistente una struttura fittissima è l'effetto crusca. Quindi quando voi andate per... ragazzi noi dedicheremo una puntata apposita alla progettazione dei nostri impasti. Secondo me la progettazione è una delle cose meno trattate e più veramente invece al contrario più importanti della nostra attività. Ormai noi non siamo più i pivelli che si avviano alla cieca nel mondo degli impasti, buttano più i farini in mezzo, scelgono tecniche a casaccio. Siamo persone che cercano invece con una buona attenzione di formulare delle previsioni di quello che vogliamo e quindi di realizzarle attraverso l'utilizzo sia di tecniche che di macchine che di farine che di prodotti che vadano incontro alle nostre richieste. Questa si chiama di fatto progettazione. Ovvero se io voglio fare una pizza molto alveolata, grande, è inutile che vada a mettere una farina di tipo integrale perché quella l'alveolatura me la piattirà. Questa è uno dei tanti esempi, dei tanti tipi di livelli di progettazione che dovremmo affrontare. Una delle prossime puntate la dedicheremo esclusivamente alla progettazione. Sono arrivato a quantificare 15 livelli di previsioni per la progettazione e ne parleremo con molta attenzione. Che mi volevi dire? Quindi sul concetto della formazione dell'acido acetico, soprattutto a causa del lievito madre, grazie alle crusche, la vedo un pochino improbabile. Vedo più che altro un altro genere di problematica, come dicevo, quella della pesantezza. Poi, ripeto, l'acetico con il lievito madre è comunque qualcosa che non dovrebbe mai verificarsi. Quello che serve a noi con il lievito madre è l'attico, ricordate? Ok, ne abbiamo parlato, ne riparleremo, faremo sul lievito madre. A proposito, sabato mi daranno, o sabato domenica, mi daranno un lievito strepitoso che vorrei distribuire ai miei amici più cari qui a Roma, soprattutto perché distribuendolo uno con l'altro si ottiene risultato di favorirne la sopravvivenza. Perché se uno di noi va in vacanza o va da qualche parte, non sempre riesce a tenere in vita il lievito, averlo distribuito a due o tre amici egoisticamente diventa una cosa che fa anche il nostro tornaconto. Quindi da lunedì i romani si tengano pronti a questa distribuzione di lievito madre di ottima fattura, di antico lignaggio, come usano dire certi scioccherelloni, zuzzerelloni come me, ed è un lievito che invece merita veramente di essere gestito. Però dimmi. No, 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 ti dico. C'è la Giuseppe, Carmine, Carmine Caruso. Ah, Carmine, ciao. Diceva giusto Ettore parlavi della progettazione, io prima di pizzare passo molto tempo giustamente da progettare su cosa voglio ottenere. Ma guarda, io addirittura nei corsi che abbiamo fatto online, che sono molto carini, ho dedicato un intero capitolo alla progettazione, ed è un capitolo molto ricco, perché la progettazione, ma ne parleremo poi dopo, comunque sono contento Carmine che tu mi dia ragione, anche perché mi fa piacere risentirti. Allora, torniamo a noi. Dobbiamo pensare come fare a capire quale sia la farina corretta per l'utilizzo che intendiamo fare. Se vogliamo fare il forkebrot, usiamo una bella farina di tipo molto pesante, una bella tipo 2, la riempiamo di semini e ci facciamo le cose bellissime. Se vogliamo fare al contrario una farina di tipo, un prodotto molto leggero, pieno d'aria, carico di bolle, alveolature importanti, allora andiamo verso una raffinata, oppure verso una farina con crusche molto leggere, proprio perché devono andare a non impattare troppo sul peso complessivo dell'impasto. Ora, non è l'unica cosa, perché le farine, voi sapete, si distinguono in categorie differenti a seconda del tipo di selezione che noi vogliamo fare. Se le selezioniamo o le classifichiamo sulla base delle... che succede? Sulla base... scusate ragazzi, ma ci sono cose che voi non potete immaginare dietro le quinte dei nostri lavori. Allora, dicevo, se noi tendiamo a fare un tipo di lavoro di questo genere, dobbiamo classificare le farine. Per classificare le farine ci rifacciamo innanzitutto alla normativa italiana. Breve parentesi, ragazzi, la normativa italiana, tutto quello che è il mondo dei lievitati, del grano tenero, ma anche del grano duro, ma del grano tenero in particolare, ha subito una profonda attenzione da parte del legislatore italiano. Noi siamo abituati a parlare dei legislatori e comunque dei politici italiani, come dice Altroni, francamente molto spesso è così purtroppo. Ma non so, non mi interessa, qualcuno se ne abbia male, è quello che io penso con grande cattiveria e anche con grande rabbia. Però in questo caso, ragazzi, dobbiamo andare veramente fieri del lavoro che hanno fatto. Perché? Il legislatore italiano è il più avanzato al mondo nel definire e classificare i tipi di farine per evitare trucchetti che spesso potevano essere posti in essere da personaggi non eccezionali. Quindi cosa hanno fatto? Hanno stabilito innanzitutto la classificazione in base all'abburrattamento, ossia alla raffinazione della pizza, al contenuto in ceneri delle nostre farine. Come hanno fatto? Hanno stabilito che hanno preso una certa quantità, normalmente 100 grammi di farina, vengono messi in una stufa, la chiama la legge, in realtà è un normalissimo forno a 500-600 gradi e viene tenuta per 40 minuti, credo. Quella che resta, la cenere che rimane, è crusca. Perché? Perché il glutine è una proteina e viene bruciato fino a scomparire. L'amido, che è il componente più presente all'interno della farina, è uno zucchero e voi sapete bene che lo zucchero prende fuoco, brucia normalmente. Quindi scompare totalmente, senza lasciare nessuna scoria. Quello che lascia la scoria è invece la crusca. La crusca lascia una cenere quando viene bruciata, quella cenere viene pesata dal nostro legislatore con bilancio elettronico precisissimo e si stabilisce il contenuto in ceneri in percentuali. Più è basso il contenuto in ceneri, più la nostra farina sarà raffinata, abburrattata. Perché si chiama burrattato? Perché viene dal termine buratto che era il termine di un vaglio, di un setaccio che veniva utilizzato. Quindi il buratto è un setaccio. Setacciata la farina si vedeva, si toglieva tutte le crusche e quella più setacciata era la farina doppio zero. Quindi stabilita dal nostro legislatore con la farina più raffinata che ci sia, quella che ha il minor contenuto in ceneri. Poi ci sono quella con un po' più di contenuto in ceneri e quella è la tipo 1, poi la tipo 2 e poi alla fine l'integrale. Quindi doppio zero zero uno due integrale. Questa scaletta stabilisce in modo che non possano essere fatti trucchetti quali siano i livelli di raffinazione delle nostre farine. Questa per esempio nella legislazione francese non esiste e abbiamo le T1, T2 farine strane che si capisce bene come contenuto quale sia. Oltre a questo tipo di classificazione ce n'è un altro che non è di origine legale ma è di origine pratica, cioè sono i molini che l'hanno messa a punto ed è quella della forza delle farine. Su richieste della clientela che aveva interesse a sapere quanto contenuto in glutine ci fosse all'interno di una farina, i molini hanno messo a punto un sistema di classificazione in base al W, la forza della farina. La forza della farina coincide con quanta acqua può essere assorbita grazie alla farina. Siccome voi sapete che il glutine, vi ricordate i ponti di solfuro? Quando si fanno i ponticelli, ogni volta che si fa un ponticello si forma la catena. Ogni volta che noi facciamo un gancetto, creiamo un ponticello, viene richiamata una molecola d'acqua che va a comporre quel ponte. Quindi ogni volta che noi formiamo glutine, sottraiamo acqua all'impasto e la incapsuliamo all'interno di quel piccolo ponte. Un'enorme quantità di ponte significa un'enorme quantità di acqua che viene tolta. Più glutine c'è, più glutine noi formiamo, più ponticelli noi formiamo, più si asciuga l'impasto. Quindi vi ricordate, l'abbiamo detto, quando si impasta l'impasto inizialmente appiccicoso diventa asciutto, diventa liscio, diventa duro. Perché duro? Perché si forma il glutine. Asciutto e liscio perché viene sottratta l'acqua, non è più appiccicoso e si forma la pellicola molto bella, liscia a palla. Quindi questa è la motivazione per cui i nostri amici pizzaioli, panettieri, richiedevano di sapere la forza della farina. Più era forte la farina e più garantiva assorbimento di liquidi. E questo assorbimento è importante perché voi provate a immaginare non tanto la napoletana, forse già di più la napoletana contemporanea, ma provate a immaginare anche la teglia, provate a immaginare altri tipi di prodotti con alta idratazione. Pensate al panettone che va di farina di grano tenero, ma usa farina di grano tenero abbastanza importanti come forza perché devono assorbire l'ira di Dio di uova, burro, acqua e quindi devono avere la capacità di avere questo assorbimento molto elevato. Quindi abbiamo visto due categorie di classificazione, una sulla base del contenuto in ceneri, aburrattamento, stabilita dalla legge, è un decreto legislativo, si parte dalla doppio zero, quella con meno ceneri, si fa la zero, poi la uno, la due, l'integrale. Questa invece della forza delle farine viene stabilita dalla quantità di glutine. Come si fa? Allora, sono stati messi a punto parecchi sistemi perché i nostri amici scienziati si sono dannati un po' l'anima per inventarsi qualcosa che riuscisse a misurare la forza della farina. Alla fine è venuto un certo Chopin, nulla a che vedere ovviamente con il pianista, Chopin ha messo a punto una macchina che si chiama Alveografo. Cosa fa sta macchina? Pesa dei dischetti di pasta, l'impasta, dopo di che li mette da parte, quando li riprende li passa attraverso un doppio strato di acciaio, questo doppio strato di acciaio li schiaccia, c'è un forellino attraverso cui viene soffiata aria e si forma una bella bolla. Più è grande la bolla, quindi più aria riesce a contenere la bolla prima di esplodere e più vuol dire che c'è glutine perché è glutine che trattiene quella bella bolla in tensione e non la fa strappare. Quindi abbiamo un ago che misura le dimensioni del nostro grande bollone che viene formato e le trasferisce su un grafico. Il grafico copre un'area, l'area è il W. Questa è tutta la storia da Pappardella, come dovete conoscerla. Ci sono delle situazioni che però vanno e è urgente che vengano messe a punto. Allora, noi abbiamo detto che le farine non sono tutte uguali perché in base alla forza noi abbiamo farine di tipo diverso e non tutte le farine sono buone per qualsiasi tipo di prodotto. Non è che una farina è più forte e automaticamente è più buona. Questa è una cosa, è un errore che si tende a fare anche da parte di persone molto molto tecniche e preparate. Non te l'aspetti, forse perché la parte del contenuto in glutine è una delle cose che fanno la qualità. Però ricordatevi che non è che la qualità è assoluta, ma dipende da quello che tu ci vuoi realizzare. Faccio un esempio. Per fare un biscottino, per fare un tarallo, per fare un pan di spagna, che farina dobbiamo usare? Ci serve farina con tanto glutine. Eh no, ci serve una farina a bassissimo contenuto proteico perché più è basso il contenuto proteico, meno avremo l'effetto gomma in bocca. Anzi, poco glutine uguale friabilità, scioglievolezza sia dell'impasto ma friabilità, poi dal morso del prodotto finale. Quindi il pan di spagna che è il trionfo della friabilità, quello si deve sbriciolare a zero, come pure i tarallini, i biscottini, la pasta frolla. Sono tutti prodotti che si fanno con farine molto deboli, o deboli, o molto deboli. Quindi parliamo di W che va dai 160-180 ai 200-210, ma anche 2.10 è anche un po' troppo. Quelle sono farine deboli, molto deboli e deboli, che sono quelle perfette per fare questo tipo di prodotti. Perfette vuol dire buone. E che vuol dire, ragazzi, che se noi andiamo a prendere una bella Manitoba di potenza, la andiamo a usare su un pan di spagna, facciamo una grossa sciocchezza, ma grossa proprio, perché non ci serve. Quello che otterremmo è un pan di spagna fatto a gomma, a chewing gum, che non ci servirebbe, al morso sarebbe fastidioso. Quindi cosa facciamo? Farina debole, risultato perfetto. Via via che aumentiamo la forza della farina, abbiamo prodotti diversi, ottimali per quel tipo di farina. Quindi la 220, 240, 260, anche 280 fanno bene per la napoletana. La napoletana tradizionale, non parlo della contemporanea, la tradizionale richiede un tipo di farina abbastanza sciolta. Alcuni napoletani, in tempi andati, facevano lievitazioni molto brevi, 6 ore, ma anche meno alcuni, ma 6 ore, perché avevano un prodotto rapido, di pronta consumazione, quindi non potevano creare farine di forza. Avrebbero creato una struttura glutinica così forte che poi la pizza diventava faticosa al morso e invece la pizza napoletana è buona perché è scioglievole. E quindi che facevano? Farina debole, peraltro, debole o medio-debole. Peraltro ricordiamo che la napoletana nasce nel 600-700, quando si usavano solo grani italiani, non c'era una selezione per forza, in base alla forza non c'era niente, non c'era un'etichetta, non c'era niente. Arrivavano gli schiavetti con i carichi di farine sulle spalle o quando andava bene l'asinello che scaricava e il pizzaiolo, quello che beccava, beccava, doveva accontentarsi di quello che trovava. Quindi provate a immaginare, quelli veramente dovevano fare fronte con prodotti di basso contenuto proteico, quindi poco glutine, perché peraltro in Italia il glutine non c'è mai stato, le farine di forza non le abbiamo mai avute noi, solo di recente abbiamo cominciato a coltivare in zone via via sempre un po' maggiori, ma ancora molto limitate, farine di forza, ma se no noi abbiamo poco glutine. Se no il glutine lo andavamo a prendere in America. Per la presione in Calada, la famosa zona Manitoba, che è una regione, per la verità, è una tribù di indiani, gli indiani Manitoba, che si sono quasi estinti completamente, sono rimasti nella storia solo grazie alle nostre farine, alle nostre follie quotidiane di impastamenti, di ricerca di farine estranei. La Manitoba è diventata famosa perché gli indiani, la tribù aveva nominato anche tutta la zona in cui viveva e in quella zona del Canada si riusciva a coltivare un grano che produceva un'enorme quantità di glutine. E questa enorme quantità di glutine era, diciamo, ideale per fare altri tipi di prodotti, quali pizza in teglia, pizza napoletana di tipo canotto, quella contemporanea, oppure pizza in teglia alla romana, pizza alla pala, panettoni e tutto quello che, grandi lievitati, pani conditi, pani pesanti, sono tutti pani che richiedono grandi quantità di glutine. Due parole a proposito della Manitoba. È rimasto il nome. Manitoba però non ha caratteristiche precise, se non un vago senso di forza, ma non ha caratteristiche fissate da nessuno. Quindi, per esempio, se voi andate nel noto supermercato a comprare la Manitoba, vi ritrovate una 280-300 che, insomma, non è proprio sta forza clamorosa. Se invece andate a un molino di marca, di quelli a cui noi affidiamo le nostre richieste, vedete che Manitoba diventa qualcosa di ben altro, 340, 360, 380, roba di ben altro peso. Quindi Manitoba, non vi fidate del nome per dire che sicuramente è solo un indice di una quantità di forza più o meno presunta. Tra l'altro, ragazzi, questa storia del Canada contiene al suo interno una curiosità che adesso vi trasferisco perché l'ho vista su un video di YouTube. YouTube è una forza per queste cose. Racconta tutti i fatti più strani del mondo e io lì ho visto come viene fatta la raccolta del grano nella zona Manitoba. È una cosa bellissima. Voi vedete queste... Io sono di Foggia, lo sapete, no? Quindi Foggia, grande, calmo. Ieri erano 39 gradi dichiarati dal telegiornale, quindi robetta seria. Provate a immaginare i campi di grano che hanno finito in questi giorni di raccogliere 39 gradi, che cosa voglia dire? Un inferno, vedete l'aria che tremola. Bene, in Canada tutto questo non c'è, siamo nell'estremo nord, siamo quasi vicino al circolo polare, quindi insomma ci teniamo in una situazione di freddo. Tanto che nel video che vi ho detto prima io vedevo passare i miei trippi che mietevano il grano con una base di neve presente. E come caspita è possibile che si riesca a far maturare un grano con ancora la neve a terra al momento della mietitura? La neve a terra, ce ne affoggia 40 gradi e questi con la neve a terra. E lì c'è il barbatrucco molto brutto che è il glifosato. Il glifosato è un elemento diabolico, ragazzi miei, che viene utilizzato per buttarlo e ottimizzare, rendere la maturazione molto rapida e quindi rendere possibile la raccolta del grano. Dimmi. Allora c'è una domanda di Enrico. Ciao Enrico. Ho letto che il V di una farina possa essere facilmente alterato mediante aggiunta di glutine secco e o acido ascorbico per cui tende ad assorbire un indice poco attendibile. Allora, hai detto una cosa vera e hai detto una piccola imprecisione. Il V sicuramente può essere modificato, questo è certo. Può essere modificato in modo naturale o in modo non naturale. Siccome il V è dato dal glutine, se tu aggiungi il glutine secco che sia, non è importante, ottieni un aumento del W e ottieni un aumento, in questo caso con l'aggiunta del glutine secco che non ha niente di illecito e non ha niente di artificiale, artificioso, è qualcosa di perfettamente naturale, pienamente in linea con i prodotti già utilizzati, l'unica cosa va dichiarato con l'aggiunta del glutine secco, va dichiarato in etichetta ma non ha nessuna conseguenza negativa, anzi apprezzata perché vuol dire che l'azienda ci ha messo l'attenzione. Perché l'alternativa che tu invece tu stesso hai fatto, quella dell'acido ascorbico, è qualcosa che è un pochino meno, un po' più furbetta, non voglio dire altro ma un po' più furbetta sicuramente sì. Perché? Perché l'acido ascorbico non è glutine, non aumenta la forza aumentando il glutine, aumenta la forza aumentando una struttura rendendo meno semplice, più difficoltosa l'operazione da parte della proteasi. Poi crea tutta una serie di realtà pseudo glutiniche ma non hanno niente a che vedere con il glutine e quindi crea qualcosa che non è effettivamente naturale. Quindi sull'uso dell'acido ascorbico, insomma io, e lo sapete come ve ne accorgete? Allora, se un'azienda gioca pulito e dice questa farina è un V400. Con l'aggiunta di glutine secco non ha commesso niente di non solo illecito ma anche niente di fastidioso. È una cosa assolutamente positiva che io vedo molto molto favorevolmente. Ma non solo. Deve fare scopa con quello che c'è scritto in etichetta. Perché amici miei, la nostra legislazione è stata brava anche in questo. Ha obbligato le aziende a scrivere in etichetta i contenuti delle cose più importanti che compongono la farina. Ovvero i zuccheri, e sappiamo che significa l'amido, dice i carboidrati, di cui i zuccheri. Poi mette le vitamine e ce ne sono pochissime, sono contenute solo nelle crusche. I grassi ce ne sono pochissimi, sono contenuti solo nel germe di grano che sta alla punta. Quindi che cosa resta? Le proteine. E le proteine per lo più sono glutine, non al 100% proprio no, però quasi del tutto glutine. Quindi voi, se trovate un basso contenuto di proteine e un V alto, diciamo che voi trovate proteine 10 che corrispondono a un W 160-180, quindi proprio bassissimo. E vi trovate invece poi scritto da qualche parte che quella farina ha un V 300, e beh lì qualcosa non va dritto. Nella scheda della farina devono indicare anche il V e voi troverete nella scheda della farina un V molto alto, un contenuto in proteine molto basso. Lì hanno giocato sporco, lì hanno aggiunto non il glutine secco perché sarebbe tutto a norma, ma hanno aggiunto l'acido ascorbico che non è vietato, ma a me non piace come soluzione perché non è un vero glutine, è qualcosa di un po' strano. Quindi per saper fare bene questo calcolo bisogna avere ben chiara la corrispondenza fra il contenuto in proteine e il V. Questa cosa la trovate un po' dappertutto sul nostro forum. Ci sono le tabelle di comparazione fra il W e il contenuto in glutine e vi dice tutto. Io muovo e le riassumo grandi linee sperando che me le ricordi, ma insomma. Allora il contenuto in glutine sotto il 9% non è panificabile se abbiamo contenuto in proteine, quello che trovate nell'etichetta sostanzialmente. Proteine se trovate 8% state di fronte a una farina che è buona per fare la crema, è praticamente solo amido fondamentalmente. Se trovate intorno al 10% cominciate a stare intorno a 180-200, quindi un buon 10% comincia a essere panificabile per fare dolci, pan di spagna o pizze a brevissima durata, quindi 3-6 ore, ma non benissimo. Via via che aumentate il contenuto di proteine, andate verso 11-11,5% entrate nel campo della napoletana. Il pieno campo della napoletana tradizionale richiede fra il 10,5% e l'11,5%, a volte il 12%. Per esempio note farine che venivano utilizzate andavano intorno a 300, ma sono già farine limite perché a quel livello il rischio di formare la gomma è molto alto. Quindi noi abbiamo fino a 10-12, 11-12 abbiamo il campo delle farine per la napoletana, quindi abbiamo da 220 fino a 260-280. Dal 12,5-13 andiamo nelle farine di forza, che è il mondo in cui cominciano a entrare intorno ai 300-320-330 e poi a salire fino a 400 con il contenuto in proteine che arriva a 15 massimo, abbiamo il mondo delle farine di forza, più è alto ovviamente e più vi troverete di fronte ai farini che bevono l'impossibile. Quindi voi avete questo rapporto, proteine e W, proteine che stanno sotto il 9, non panificabili, dal 9 a 11 è il mondo della napoletana, anche 11,5%, dal 12 al 13 è il mondo della teglia, 13,5%, sopra sono le farine di potenza, quelle di forza, gran forza, che sono quelle per i panettoni fondamentalmente o per i panni molto ricchi o le cosiddette farine tecniche, cioè la Ripper che fa farine a 600, il W, 700, 1000, sono farine che hanno insomma un utilizzo, certamente non in purezza, ma vengono utilizzate per stagliare, per realizzare prodotti diciamo molto particolari. Ok, adesso abbiamo un quadro del comportamento e della farina da scegliere, quindi quando torniamo un attimo alla nostra ipotetica progettazione, io mi devo fare una napoletana, beh, e mi domanderò quale napoletana voglio fare, quella col cornicione, quindi la contemporanea, voglio fare quella un po' alla Michele, bassa e scioglievole, a seconda della risposta che darò a questo, sceglierò la farina relativa, perché se devo fare una contemporanea sta intorno al 75%, al minimo una 2,60, 2,80 la devo usare, se voglio usare invece una farina per fare una napoletana alla Michele, starò intorno ai 2,40, quindi capite bene che cambia il tipo di farina che va usato. Una cosa che credo che lascerà un po' perplessi alcuni di voi, ragazzi, questa mania di fare le lunghissime lievitazioni, ho fatto lievitazioni 24, 40, 70, 200, cose pazzesche, vanno bene, diciamo per fare i primi sperimenti, quando uno si lancia in questo mondo, viene preso dal sacro fuoco della lievitazione, è chiaro che si lancia a fare questo genere di esperimenti, ed è pure giusto che li faccia lui direttamente sulla propria pelle, fra virgolette. Però poi una volta superata quella fase di entusiasmo iniziale, non è più necessario andare avanti in quel tipo di esperimenti, tenete conto che le lievitazioni più che ottimali stanno intorno alle 24-48 ore e si possono fare con farine di media forza. C'è una bella farina a 2,40, V2,40, V2,60, 280, 300, 24 ore, le pigliano tranquillamente, ma a 2,40, a 24 ore, alla grande, ragazzi, se volete fare 48 ore comincia a soffrire un po', quindi salite da 80, 300, ma solo se volete arrivare a 48 ore, se no con 24 ore non vi andate a caricare. Tanto è sentita sia da me che da tanti altri colleghi che si occupano in maniera un po' più avanzata di questo tipo di problema, che noi decidemmo di togliere dal nostro calcolapizza l'indicazione della farina, perché era stata messa un'indicazione un po' draconiana, tutte le ricette che uno impostava, che superavano le 12 ore, boom, farina di forza col W intorno ai 300, questo non è corretto, soprattutto per la napoletana non va bene, per la teglia forse pure, ma per la napoletana assolutamente no, e quindi decidemmo di sottrarre questo elemento che invece a molti era di supporto, almeno in teoria, poi in pratica lo sappiamo, era un po' deviante. Quindi quello che noi abbiamo imparato oggi è, questa è la cosa più importante di tutte, che scegliere la farina in base al prodotto che dobbiamo realizzare, alla tecnica che vogliamo fare, al numero di ore che vogliamo dare di lievitazione, che è figlia a sua volta di una decisione che noi dovremmo prendere in base al risultato che vogliamo. Amici, se vogliamo l'amaco, questa è una classica richiesta per chi si avvia verso la napoletana, tutti vogliono l'amaco, vogliono l'amaco puntinata, fina, bla bla bla, qual è la risposta secondo me per fare? Lunga maturazione, ci vuole quello perché è quello che porta al risultato dell'amaco. Allora se vogliamo una lunga maturazione, non possiamo usare una 180, non è possibile usare una 180 e fare 24 ore o 48 ore, dobbiamo usare farine di media forza, portarle quasi al loro limite e ottenere un risultato con una splendida fioritura di amaco, con altri prodotti, per esempio altre tecniche tipo l'autolisi o altri tipi di impastamento. Allora posso rispondere? Sì, volevo vedere un attimo l'ora, siamo a 40. Allora c'è Nicola, ha il doppio account, Nicola Eccaria, non so chi è che ha scritto, comunque dice il glifosato serve per bruciare le erbacce. Serve per parecchie cose e viene usato per parecchie cose, il problema è che non si degrada facilmente, è un prodotto chimico a grande impatto, a lunga durata, per persistenza, quindi insomma è un po' un problema. Poi c'è Grazia Serra che chiede, la semola ha quante proteine? Allora, stai introducendo un argomento parallelo a quello che stiamo trattando, perché la semola è il grano duro, tutto quello che abbiamo detto finora vale per il grano tenero. Il grano duro, amici miei, è un mondo molto separato, molto diverso. Prima di tutto ha senso questa definizione, la denominazione grano duro, perché effettivamente il chicco è più coriaceo, è più duro fisicamente, ha un aspetto più, quasi di un cristallo, qualcosa di molto duro e ha delle conseguenze particolari, non so se voi, molti di voi forse hanno praticato o utilizzano spesso il non id, beh, la semola non accetta il non id, che è una cosa folle ragazzi, io ho vissuto ore di inferno quando fui chiamato a una trasmissione con Antonina Esposito, Sergio, Mario Trettoni e Antonina Esposito, e chiamarono me come ospite per parlare di un prodotto speciale. Loro facevano solo una poletana in quella trasmissione, io veni chiamato per un prodotto speciale e mi portai la mia famosa focaccia del priore, non potendomi portare la mia planetara, pensai di fare il non id, che ancora non sapevo che il non id con la semola non va, o meglio va, ma devi fare tempi lunghissimi, 24 ore la prima pausa, insomma cose veramente praticamente inapplicabili. Una volta c'è riuscito il nostro amico sul forum, Sandro Notaro, riuscì a farla con un processo che attirò l'ammirazione di tutti, gli applausi di tutti, perché era veramente qualcosa che era ritenuto impossibile. Questo per dire, per la semola valgono cose completamente diverse, non c'è un calcolo del V, c'è un contenuto solo di proteine, anche lì dipende da quello che volete fare, se volete fare una focaccia normale, una farina normale da supermercato va più che bene, se volete fare per esempio la focaccia del priore, quella focaccia pugliese alta idratazione, 100% di idratazione, per forza dovrete procurarvi una farina con un grande contenuto proteico tipo, che ne so, la De Cecco, la Molisana, che hanno contenuti intorno a 14, addirittura a 14,5, quindi lì potete andare con farine che hanno grande assorbimento. Ok, passiamo un attimo, allora, c'è Gilmar Koyanitz, chiedo scusa se la pronuncia non è corretta, chiedo scusa se non lo dirò io, la lievitazione conviene farla in frigo o a temperatura ambiente? Eh, bella domanda, allora concettualmente a temperatura controllata, allora normalmente tutti sovrappongono a temperatura controllata uguale frigo, in realtà se hai una bella cantinetta ottieni il risultato migliore, perché la temperatura controllata fa sì che tu hai la temperatura costante lungo tutto il tempo della lievitazione, mentre se tu pensi a quello che succede a casa tua, la notte si abbassa la temperatura, il giorno magari, o d'estate, la notte tu spegni il climatizzatore, la temperatura sale, la mattina accendi il climatizzatore e la temperatura scende, quindi hai degli ondeggiamenti di temperatura, alti e bassi che sicuramente non giovano alla lievitazione. Quindi se vuoi un prodotto diciamo più accurato, con lievitazione e calcolo del lievito, eccetera, avvaliti della temperatura controllata della cantinetta, quella è la condizione ottimale secondo me, quella della lievitazione a temperatura ambiente porta risultati a volte anche migliori, devo dire le pizze più belle forse le ho fatte a temperatura ambiente, però il rischio di sbagliare il lievito era molto alto perché l'ondeggiamento alle temperature ti portava a risultati spesso imprevedibili. Vado? Vai. Allora, poi c'è Galway Pizza Home to Home. Beh, lo fate apposta. Sì, ce l'hanno con me, vabbè. Lo fate apposta. Una domanda all'esperto, come usare la farina integrale al 50% per la napoletana contemporanea che non? Please, PS, potete metterla nel calcolo la pizza? La contemporanea? Ok, la contemporanea metteremo, a breve faremo anche quello per la teglia, la contemporanea ha un'idratazione molto simile a quella della teglia o uguale anche, quindi sicuramente lo faremo. Attenzione a questo concetto di come inserire l'integrale nella contemporanea. Io ho già detto che la crusca ha questa problematica di rendere pesanti gli impasti. La contemporanea è quella che vuole sviluppare i cornicioni, abbiamo due situazioni in contrasto. Quella della quantità di crusca che appesantisce l'impasto e invece la nostra richiesta di alleggerirlo. È ovvio che le cose non vanno bene insieme, quindi vanno un po' gestite con cautela. Devo dire che noi questo l'abbiamo risolto con, ora sembrerà uno spot, ma vi giuro non lo è, con la farina di due priori, perché abbiamo messo a punto la farina che contiene una tipo 1, contiene un buon quantitativo di ceneri, quindi di crusche, però abbiamo fatto scegliere appositamente al molino le crusche più leggere, cioè quelle più interne, più ricche d'acqua, il che comporta tutta una serie di benefici, pesano un po' di meno, hanno un po' meno coriacità al mosso, sono più leggere anche nella salita, leggerezza della formazione e ci facciamo delle bellissime pizze, che hanno pizza in teglia alla romana, pizza alla pala, quindi che hanno richieste di grande alveolatura, ci siamo riusciti, siamo molto soddisfatti di questo. Quindi se devi scegliere una crusca da mettere all'interno del tuo impasto per la pizza napoletana contemporanea, prediligi le crusche leggere, se ti è dato di sceglierle, prediligi quelle leggere, se no ti prendi e ti trovi una farina che parli al suo interno di crusche leggere. Allora, questo è Antonio e Mariella. Finalmente, un bel nome italiano, Antonio e Mariella, le belle cose soddisfazioni. Sì, la domanda che ci facciamo tutti da sempre, perché a volte dopo aver mangiato la pizza la notte me la faccio bevendo? Allora, ragazzi, qua secondo me interviene l'effetto cammello, viene chiamato questo. L'effetto cammello normalmente era debitato a corte lievitazioni, grandi quantità di lievito di birra all'interno dell'impasto. Abbiamo fatto delle prove e abbiamo scoperto che questo non era vero. Quindi non sono le corte lievitazioni che necessariamente portano un tipo di pesantezza nella digestione. Ritengono molti che dipenda soprattutto dal condimento, perché il condimento molto pesante porta automaticamente a un problema che nulla ha a che vedere con il lievito. Ma non solo, secondo me dipende, come mia opinione personale, da un impasto gestito male. Cioè se tu non segui in modo corretto tutte le tempistiche lievitazioni, la prima lievitazione impuntata, l'appretto, la stesura, la fai correttamente, la cottura, esageri un po'. Per esempio nella napoletana la cottura è fondamentale, perché se esageri nella cottura col calore, per ottenere qui i cornicioni alla Michele, molto puntinati, bassi, molto puntinati, e lì ricorre il rischio di avere il cornicione un po' crudo, perché l'enorme quantità di calore ustiona la parte esterna e non fa in tempo a raggiungere il cuore. In quel caso tu ti trovi con il cuore dell'impasto una mollica non perfettamente cotta e lì sì che sono guai, perché ricordatevi ragazzi noi parliamo di cereali. I cereali noi, razza umana, li possiamo mangiare solo se cotti. Crudi non li digeriamo. Quindi è ovvio che se hai una pizza leggermente cruda, perché sovraccotta, scotta a temperatura un po' troppo alta, allora lì rischi davvero di avere un peso sullo stomaco e il cinghiale ti sveglia la notte che ti guarda. Ok, poi Elisabetta, per il rinfresco del lievito madre, quale farina conviene usare per fare poi il pane o la pizza? Ci si accoda anche Tony con la stessa domanda. Allora ragazzi, qui vorrei essere, come raramente accade, piuttosto perentorio. Lievito madre, lasciate perdere le crusche. Quando dovete rinfrescare, rinfrescate con farina bella raffinata, burrattata, una bella doppio zero di forza, perché deve reggere a lungo e poi ha anche altri benefici, ma usate una buona farina di forza, intorno alle 300, addirittura alle 350 e usate quella farina sempre. Non cambiate farina una volta una, una volta un'altra, una volta un'altra ancora. Non usate, addirittura c'è stato un periodo, noi facevamo anche un test, facendo i rinfreschi, siccome noi pensavamo che il lievito madre avesse bisogno fondamentalmente solo di zuccheri, pensavamo addirittura di farlo con l'amido, l'amido di frumento, la frumina, rinfrescammo il lievito madre con quello. Funziona? Non è che non funziona. Ti ritrovi una pappetta e ovviamente dopo un po' ne soffre. Quindi non è che sia il massimo, dovete usare una buona farina di forza. Ma questa è una cosa che ho scoperto da quando, non tanto da pizzaiolo, ma l'ho scoperto da quando ho cominciato l'ultima delle mie bestie oscure, il panettone. Da quando ho cominciato a lavorare sul panettone, vi dico, lì veramente il rinfresco è curato con una maniacalità che ha pochi confronti e la farina ottimale, per dirne una, abbiamo delle farine di potenza, bella, stiamo facendo fare a Bongiovanni una farina per la confraternita apposta per il rinfresco del lievito madre. Vogliamo solo quella, deve avere solo quello scopo. Quindi chi la compra deve usare solo per quello, chiaramente puoi usarla anche per altre cose, ma lo scopo primario sarà quello del rinfresco del lievito madre e avrà una forza intorno ai 300-350, quella dovrebbe essere più o meno. E sarà sicuramente una doppio senza zero. Beh, lo so, essere anch'io perentorio quando è necessario. Vado? Vai. Nicola, in termini pratici, un impasto fatto la mattina di questi tempi e con 30 gradi in casa conviene un diretto senza usare frigo? Grazie, fate un lavoro e greggio. Lo so che ce l'hai con me, Nicola. Ok, beh. Nicola, pensa anche a me come vivo. Ok, allora torniamo a noi. È una domanda un po' particolare. Quando fa molto caldo, soprattutto quando fa molto caldo, stringi la finestra di lievitazione a temperatura ambiente, perché è quella quella a rischio, quella a 30 gradi, quella che succede nel frigorifero, che sarà a 4 gradi, se tutto va bene e non apri troppo spesso, tu avrai una zona morta dove non può succedere nulla, una zona di sicurezza la chiamiamo noi. Quindi fai frigo, 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 frigo durante il caldo estivo, frigo, frigo, frigo. I napoletani supporrivano a questo, siccome non avevano una possibilità, di scegliere farina un po' più di forza, il rischio del gran calore e quello del crollo dell'impasto. A me è successo, ragazzi, devo dire che è successo nel peggiore dei momenti possibili. C'era la laurea della nipote di Rita, vennero tutti quanti, aggiustavamo il giardino, fu una cosa epocale, centinaia di persone ha mangiato da noi. Io chiamai tutti i ragazzi della confraternita per cuocere al forno a legna, grande, bello che ho io, per cuocere le nostre napoletane e fare il figurone. Quindi preparai centinaia di palline napoletane, una pila di cassette napoletane da terra alto così, bello, 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 molto contento. Ma non avevo frigo perché se l'ha fregato Rita. Quindi io rimasi con tutte queste palline napoletane al caldo e faceva caldo come oggi. Bene, quando sono andato a prendere palline erano perfettamente lievitate perché ho usato il calcolapizza che anche a quelle temperature mi ha aiutato. Ho aperto la cassetta, palline perfette, belle pallotte, ho infilato la stecca, ho tirato su e è venuta su mezza pallina amici miei, come fosse crema. Era totalmente crollata la immaglia glutinica dell'impasto per il caldo. Quindi questo può accadere, quindi riduci al minimo la permanenza fuori frigo solo per la fase che ti servirà come lievitazione finale tipo a pretto. La puntata fatta la tutta in frigo, che te frega, che te ti ringrazio e dice che per il calcolapizza intendeva dire inserire la farina integrale come calcolo, capito? Fare proprio magari una schermata per le farine diverse. Sì, ti anticipo che abbiamo avviato un processo con un amico nostro che sta facendo un'app finalmente che non sarà il calcolapizza, sarà un altro prodotto simile, ovviamente molto molto simile nei risultati ottimali, ma un po' più avanzato. Quindi metteremo sicuramente anche un occhio di riguardo per le farine. Allora, aspetta per me vedere se ha saltato qualcuno. Sì. Vabbè, c'è Thomas che dice bellissima live, questa era io ora ad ascoltarti. No, no, io no, sto con la via. Lei è molto spiato, grazie Ettore, sempre molto prezioso. Ma poi c'è, grazie a Serra, se io ho 200 grammi di lievitomadre e devo fare 10 kg di pane, come devo rinfrescare il lievito con che quantità di farina? Mi penso che si usa il calcolapizza prima. No, devi decidere la ricetta che prevede. Quindi devi sapere la tua ricetta, quante ore di lievitazione ha. Tu sai che la durata della lievitazione e la quantità di lievito dipende da due condizioni, una è la temperatura e una è il tempo. Se aumenta la temperatura sarà più veloce, se aumenti il tempo ci vorrà meno lievito. Quindi in base alla tua ricetta, quello che devi fare, dovrai stabilire quanto lievito fare. Poi una volta che tu saprai quanto lievito fare, puoi usare il calcolapizza. Mi pare che però il calcolapizza non scende sotto il 50% di idratazione, quindi potresti avere qualche problema, ti fai un piccolo calcolo matematico e risolvi in questo modo. Mi spiace, più così non posso farlo. Guarda, allora, perlomeno ci siamo. C'è Paola De Marco. C'è un elemento... Saluta Paola. Sempre Paoletta. C'è Alessandra Giannini, grazie Ettore, grazie Rita, grazie cameraman. Sono io la cameraman questa sera, Gabriella. Ciao, Gabriella dall'Ostemburgo. Ciao, Ettore e Rita, siete fantastici. Un saluto, aspetta Anna Maria, Paola. E c'è quell'elemento di disturbo... Giuseppe Ferrara, saluti da Foggia. Ottimi consigli. Se esco una quindici giorni me ne vengo a Foggia, spero proprio di farcela. Una puntata sulla teglia? Certo che faremo, giusto? Sì, faremo tutta la parte che riguarda le caratteristiche della teglia, faremo una pala del priore, in modo che avrete anche delle teglie un po' diverse dal normale, faremo le classiche teglie, le pizze in teglia alla romana, sia teglie che pale, faremo tutto quello che serve. Ma insomma, questo sulla farina era abbastanza importante perché non ne avevamo ancora molto parlato. Fra l'altro, per fortuna abbiamo, diciamo, siamo cresciuti. Siamo cresciuti sia nei numeri che nella qualità, ma anche nelle nostre scelte. Avere affiancato un molino così importante come il molino Bongiovanni significa avere al nostro fianco una struttura di qualità a cui non eravamo abituati perché, insomma, noi abbiamo farine veramente di altissimo livello, di altissima affidabilità e questa, insomma, per noi è una bellissima medaglia che, insomma, sentivamo di dover meritare. Ecco, dimmi. Poi c'è quel elemento di disturbo che risponde al nome di Francesco Priori. Che ha da ridire, Francesco Priori? Ci complimenti alla speaker. Sono io. Rita, non so se lo sapete, si è guadagnata nel tempo la carica di speaker ufficiale della confrateria. Questa è una cosa che lei tiene tantissimo perché viene da una persona che ne stimiamo con cuore e con affetto. Va bene. Allora, poi c'è Stefano Paoluzzi. Sì, perché io sto guardando su due siti, quindi mi faccio un po' fatica. Se salto qualcuno, ditemelo. Allora, ciao, grazie. Stefano? Ciao, grazie per le belle informazioni. Una domanda? Aspetta, perché non vedo. Visto che ne hai parlato, come fare ad avere una bella maco ogni volta? Considera che lui utilizza un F1 più 134. Allora, la maco è figlia di fondamentalmente due cose. Grandi maturazioni e grande calore. Se hai tutte e due, il più delle volte esce un buon risultato. Quindi lunghe maturazioni sono fondamentali, si sviluppano le condizioni per ottenere quelle piccole bollicine che poi formano la maco, diciamo. L'altra è la temperatura infernale. Quindi la maco sotto i 4,50 è praticamente impossibile averla. Se voi vedete, ci sono dei pizzaioli. La pizza italiana, per esempio, che si cuoce a 300 gradi, è molto uniforme la cottura del cornicione. Ha questo colore un po' ambrato, leggermente più chiaro, leggermente più scuro, ondeggia il colore, ma rimane un po' ambrato. Mentre invece la napoletana ha il fondo abbastanza chiaro, soprattutto se usate, ecco questa è un'altra informazione, se volete un macco di tipo molto spinto, usate il lievito liquido, il lievito naturale liquido. Avrete come difetto il fatto che sarà facile strapparla, quindi dovrete stenderla con molta cura, soprattutto in fase di stesura sul dorso delle mani. Il rischio che si faccia lo strappo è molto alto, ma se riuscite a governare quel rischio, vi ritroverete un cornicione proprio caratteristico del lievito naturale, che è bianco, non sarà un cornicione colorato, quindi se vi piace più colorato metteteci un po' o di olio o meglio ancora di malto, di astasico all'interno dell'impasto. Quindi quello vi porta un cornicione invece bianchissimo e le puntinature molto evidenti, addirittura quelle un po' bombate, leggermente bombate. Poi come farlo ad averlo fisso ogni volta? Questa è la domanda del millennio, manco del seto del millennio. Ci sono alcune cose che tendono a ottenerla meglio, io farò forse anche una puntatina apposta sull'amaco, ma ripeto fondamentalmente sono due, lunghe maturazioni, grande maturazione dell'impasto, quindi una degradazione degli elementi base che sono amido e glutine e poi temperature molto alte, quindi se hai il forno a legna ottieni il risultato migliore, non c'è niente da fare, anche perché la brutalità della cottura del forno a legno porta l'amaco ideale, quella proprio potentissima, che si può ottenere, per esempio c'era Giacomo Guido che riusciva a fare un amaco bellissimo, molto puntinata, fina fina, fitta fitta e la riusciva a fare benissimo con i forni elettrici a 4,50, quindi lui utilizzava qualche trucchettino, chiamiamolo così, che però non è a nostra conoscenza purtroppo, ahimè, ok? Come siamo messi? Guarda, facciamo l'ultima domanda di Vincenzo. Ciao Vincenzo. Poi c'è Nicola che ci chiede anche una puntata sul pane, ok Alessandro che ci saluta, diverse cose, i saluti li faremo dopo, allora la domanda di Vincenzo Maraventano è questa, ma la differenza... Vincenzo, tu hai un cognome bellissimo, un cognome siciliano, non ricordo bene quale paesino della Sicilia, credo Siracusa, ma non sono sicuro, che è veramente bellissimo, un cognome che fra l'altro è molto caro alla nostra famiglia, avevamo degli amici con quel cognome, dimmi. Ma la differenza organolettica tra la pizza napoletana classica e la contemporanea qual è? Cioè saline diverse, percentuali di idro più alte, tempi di maturazione più lunghe, come si traducono in termini di gusto e qualità? Amico mio, e ti chiamo amico perché hai quel cognome, guarda che le variabili all'interno delle ricette sono infinite, non è che basta l'idratazione, anche la stessa pizza contemporanea, tu sai che viene declinata in tanti modi diversi da quelli che l'hanno inventata, messa a punto o che l'hanno sposata, quindi ci sono quelli che fanno il 75, quelli che fanno l'80, quelli che invece fanno lievitazioni brevi, quelli che fanno molto lunghe, quelli che usano il lievito naturale, pochi, quindi hanno tecniche diverse e chiaro che a seconda della tecnica tu avrai aromi, profumi fondamentalmente, ma anche gusto, vengono dalla degradazione degli elementi fondanti. Quindi quando tu hai per esempio il lievito naturale, il lievito naturale porta un aumento di profumi e di sapori smisurato. Il problema qual è? Che quando tu poi ci metti il pomodoro sopra non lo senti più. Quindi la pizza napoletana, diciamo, il contributo che può dare il lievito naturale è assai ridotto. Questo è molto più sensibile quando invece parli di pane. Il pane, soprattutto il pane in purezza, quello bianco, tu ci metti un buon lievito naturale e lì godi proprio come un uccellino perché è bellissimo il tipo di risultato che potrai avere e lì viene valorizzato al massimo. Quindi dal punto di vista organolettico sono gli acidi, i vettori del sapore e del profumo sono due, gli acidi e i grassi. Tutte e due abbiamo, per quanto riguarda il lievito di birra, abbiamo solo l'acido alcolico che chiaramente ha una sua gran dignità. La pizza napoletana per molti è quella che sa di lievito di birra e deve avere quella connotazione. L'acido alcolico, invece per esempio quelli un po' più raffinati, oggi prevedono nell'acido lattico, non tanto nell'acetico ma un po' ci deve essere, un terzo almeno deve esserci, ma nell'acido lattico per lo più quella che è la connotazione più profumata, la migliore possibile. Ma ripeto, per la napoletana è difficile valorizzarla questa, non si riesce a percepire. Allora, l'ultima domanda, poi altrimenti riprendiamo sulla stanchezza. Nicola fa una domanda un po' particolare. È vero che le lunghe maturazioni possono digradare così tanto il glutine da portarlo a livelli inferiori a quelli dichiarati nei prodotti gluten free, soprattutto utilizzando il lievito madre? Fermo là. Allora, come si chiama? Nicola. Nicola, attento, attento, attento. Warning. Gluten free è un mondo rischiosissimo. L'utilizzo del glutine può provocare emorragie interne. Anche il glutine degradato potrebbe provocare emorragie interne. Quindi io ti invito, ma con assoluta accuratezza, a non fare questi esperimenti con chi soffre di questa celiachia maledetta. No, Nicola lo conosco. Sa dei prodotti fantastici. Ok. Allora, se lo fai, diciamo, per essere come domanda ipotetica, allora ti dico che chiaramente se tu lasci lavorare la proteasi, quella dissolve totalmente il glutine, lo trasforma in amminoacidi, che sono i mattoncini della vita fondamentalmente, quelli li hanno trovati pure sulle comete, quindi pensa un po' dove vanno a finire gli amminoacidi. Però il rischio per non ci mettere vicino la celiachia, ma se parli di tutt'altro sì, vai tranquillo. Se tu prendi una pallina di pizza napoletana e la lasci stare molti giorni, vedrai che quella prima si appiattisce, poi si spiattella, poi si fa quasi una crema. Quando si fa una crema è perché il glutine è scomparso totalmente, quindi sì, scompare totalmente il glutine, quasi del tutto. Allora, l'ultima domanda, l'ultima, l'ultima, l'ultima. Ancora una domanda. Ragazzi, il mercoledì prossimo sto qua, non è che scatto. Poi sì, vabbè, se volete continuare a fare le domande, Ettore vi risponde anche fuori dalla diretta, no? Sì. Allora, Elisabetta, ancora una domanda. Se volessi cambiare farina aumentando il V, sempre per il rinfresco del lievito, ora uso una 2,60, come faccio? La cambio gradualmente, visto che sarebbe meglio usare sempre la stessa farina? No, 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 un cambio occasionale, repentino, non provocherà. Ragazzi, ricordate che quelle sono colture batteriche. Il lievito è una coltura batterica, niente di più. Non lo trattate come se fosse un cagnolino che assume una sua connotazione caratteriale. No, non ce l'ha, mi dispiace, ma non ce l'ha. Quindi tu hai di fronte dei batteri che sono quanto di più meccanico possibile nel mondo della vita. Mangiano e producono degli effetti. Quando mangiano, mangiano zuccheri, zuccheri semplici e poi producono acidi, producono CO2, elementi organici che sono quelli che noi percepiamo come profumi e odori. Basta, salutiamo. Bene. Allora, ragazzi, è stato molto interessante. Vedo che vi ha fatto piacere questo discorso sulle farine, mi ha fatto piacere pure a me. Poi, per domande specifiche, se vedo che ci sono delle domande che saranno molto ricorrenti, allora eventualmente faremo una piccola appendice e andremo a trattare l'argomento che dovesse essere un po' più sensibile degli altri. Scusate, la voce non sempre all'altezza, ma anche a climatizzatore e accidenti vari. Insomma, è stata un po' un'impresa. Ci vediamo mercoledì prossimo. Abbiamo già in mente un paio di argomenti molto interessanti e ne riparleremo in settimana, vi farò sapere. Ciao, buona serata. Per l'ultima cosa, ricordatevi che, ragazzi, la diretta viene pubblicata sia su Facebook che sul nostro canale YouTube. Ok? Un bacio a tutti. Ve lo giuro, anche se sono un po' in ritardo con la trasmissione dei video su YouTube. Ok? Ok, grazie ancora. Buona serata.